In dieci anni c'è stata un'evoluzione perché ci sono molti più produttori di vini senza solfiti e quindi mi accorgo anche sempre di più che abbiamo altri colleghi che hanno seguito la nostra strada. Siamo arrivati a un punto secondo me dove ora c'è anche uno studio, quindi non è più fatto a caso, ci sono delle ricerche, si capisce anche in qualche modo come reagiscono i solfiti, cosa fanno e come si può ovviare a utilizzarli, ovviamente questa fa parte anche della ricerca grazie ai ricercatori da quel punto di vista, quindi penso che sia sempre più possibile fare sempre più vini senza solfiti che invecchiano nel tempo, che siano anche vini che non hanno problemi nel senso che non abbiano difetti. Dal punto di vista del consumatore penso che piano piano stanno imparando anche ad apprezzare questi vini e non sempre a scollegarli e pensarli come se fossero degli extraterrestri, cose completamente fuori. Ci sono dei vini senza solfiti che sono completamente integri e che al gusto, quando vengono degustati, possono sembrare vini convenzionali.